La causa più frequente di morte in Italia sono le malattie cardiovascolari. Purtroppo, queste sono destinate ad aumentare perché la popolazione sta invecchiando. Cuore Domani ha tra i suoi obiettivi quelli di sviluppare e coordinare progetti di ricerca scientifica. Invia un SMS o chiama da rete fissa 45537. Sostieni la ricerca per prevenire e curare le malattie cardiovascolari. Per il mio cuore domani. Grazie a tutti.